Benvenuto, quali sono le tue aspettative e ti aspetti da giocare da titolare da subito? Aspettative personali, adesso si fa fatica anche a parlare, io sono arrivato da due giorni, mi metto a disposizione, poi deciderà il mister, non ho nessuna pretesa. Per quanto riguarda le aspettative per la squadra, sono alte perché anche in questi due giorni ho potuto avere a che fare con un gruppo di qualità vera e mi stupisce il distacco dalla prima posizione, avendo potuto toccare con mano da vicino, adesso penso che questa squadra possa fare molto molto bene e spero di aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi migliori. Ci raccontava l'altro giorno il direttore sportivo che sei già stato vicino quest'estate a indossare la maglia gialloroscia, comunque sei stato contattato, poi le cose non sono andate per il giusto verso, adesso sei finalmente a Catanzaro, ci spieghi come mai un portiere della tua qualità è anche rimasto svincolato e appunto in che condizioni fisiche più che altro ti senti adesso? Non serve che spieghi io l'estate particolare che si è passata a livello anche di mercato, di vicissitudini comunque tra ripescaggio o meno. Io ero del Bari e sarei dovuto rimanere lì, purtroppo sappiamo tutti come è andata a finire, ho rifiutato diverse proposte da Serie C inizialmente per una mia ambizione personale di misurarmi con la categoria superiore, avevo l'accordo con due squadre che in teoria dovevano essere ripescate, poi non è stato ripescato nessuno e poi mi sono riguardato un attimo intorno e la proposta è Catanzaro, ecco l'ho colta al volo. L'altra parte della domanda? Ah, ma sinceramente è novembre, non sono al 100% perché soprattutto per un portiere è difficile, insomma si sa quanto è importante la partita. Io mi sono sempre allenato, da luglio ad adesso, anche con una squadra di Serie D vicino a dove vivo, il Forte dei Marmi, anzi che mi è stata di grandissimo aiuto. Però ecco, non penso che mi ci vorrà tantissimo per rientrare nella condizione ottimale. Ben arrivato a Catanzaro, senti, ti sei fatto un'idea del modo di difendere del Catanzaro? Sei visto qualche partita di una squadra comunque che a livello difensivo in otto partite quattro volte non ha subito gol e che in trasferta non subisce gol da oltre 200 minuti anche in vista comunque della partita con il Catania molto difficile. Sì, il mister Auteri l'avevo già affrontato diverse volte, l'avversario, insomma conoscevo l'aggressività con la quale va a prendere gli avversari, quindi per forza di cose si difende anche un pochino più alti, per me non è assolutamente un problema, anzi può portare solamente dei vantaggi e insomma ho visto che è una squadra comunque solida dietro e questo fa ben sperare, di solito chi prende pochi gol in genere alla fine arriva davanti. Potresti esordire a Catania, Catania che l'anno scorso il Massimino è stato uno stadio che vi ha portato bene a voi col Trapani, una grandissima vittoria, forse è stato anche il canto del cigno di quel gruppo che poteva fare qualcosa in più. Sì, sicuramente fu una bella serata però non è coincisa con poi una vittoria finale del campionato perché poi ci siamo un po' persi effettivamente dopo quella partita. Comunque la ricordo sempre con molto piacere perché fu una serata molto bella sia per me che per la squadra e insomma tornare al Massimino di nuovo sarà una bella emozione. Che tipo di vantaggi aspetta? Che cosa giocherà per occuparmi più del Catania? Ma sinceramente non penso alle preoccupazioni, quello ci penserà il mister e vedrà lui anche come sopperire. Io penso solo allenarmi e rimettermi un po' in pari e poi se giocherò cercherò di dare una mano per quelle che sono le mie qualità, altrimenti aiuterò comunque la squadra. Lumezzane, poi Bari, Monopoli, Trapani e per finire adesso sei qui a Catanzaro. Speriamo che sia il tuo punto di arrivo, insomma, 93 quindi molto giovane ma dopo le 35 partite che hai giocato a Trapani e diciamo con ottimi risultati, forse speravi in qualcosa di meglio, in una serie B magari? Sì, le partite erano 37 così per puntualizzare ma... Sono 35, mancano forse le due dei playoff. No, no, escluso il playoff. Comunque vabbè, insomma, 25 anni sì, non sono vecchio ma non sono neanche più giovanissimo. Comunque la mia ambizione era quella sì di provare insomma anche la categoria superiore, visto che comunque negli ultimi tre campionati che avevo disputato in C avevo fatto bene, quindi penso fosse legittimo, non concretizzatasi quella possibilità, insomma, penso che Catanzaro, insomma, in Lega prossima... Ma conosci le aspettative di questa tifoseria? Certo, certo, infatti conosco le aspettative della tifoseria ma anche le ambizioni della società. Quindi per questo dico che è una situazione che ho voluto fortemente cogliere al volo perché so che mi potrebbe dare la possibilità appunto di coronare insomma il mio obiettivo che è quello di... Ma dell'Aurenti si non ha cercato di trattenerti? No, a dire vero da Bari poi non ho più sentito nessuno. Senti, un'ultima cosa, un contratto fino al prossimo giugno con opzione, se non sbaglio, per poi il prossimo anno? Certo. Quindi in definitiva ti giochi molto quest'anno, dicevi poco appunto adesso che insomma chissà che magari non possa tu raggiungere quell'obiettivo della Serie B in giallo-rosso, insomma, in definitiva credo che ti sia stato anche in qualche modo prospettata questa ipotesi, questo progetto del Catanzaro e quello di comunque cercare di arrivare in Serie B. Certo, certo, assolutamente. È vero che mi gioco tanto e insomma mi metto a disposizione. Poi se dovessimo salire di categoria con il Catanzaro sarebbe insomma una cosa eccezionale. Questo mi darebbe la possibilità di rimanere in giallo-rosso. Però vediamo cosa ci riserverà al futuro, adesso pensiamo partita per partita. In genere un giocatore svincolato fra quelli di movimento arrivano in gruppo, devono lavorare per rimettersi alla pari, per correre quanto corrono gli altri, capire un pochettino i meccanismi. Per un portiere invece che processo c'è arrivando tre mesi dopo con una difesa che già lavora insieme da luglio o da agosto? Sì, ovviamente c'è un pochino da limare qualche dettaglio a livello di conoscenza con i ragazzi. Però per il portiere più che altro conta lo stare in porta, contano le situazioni di gioco. Ecco, riavere a che fare con delle situazioni di gioco, con la concentrazione, l'adrenalina e un po' di stress addosso che quando sei svincolato ovviamente non provi pure allenandoti. L'unica cosa che ho potuto fare era cercare di stare al passo fisicamente, penso di esserci riuscito abbastanza bene. Insomma, ora pian piano, partitella dopo partitella o partita dopo partita, le cose andranno sempre meglio. Anche l'intesa con la linea, questo è come se fosse un giocatore di movimento. Senti, hai visto molti partiti del Catanzaro? Partita intera no, però gli highlights praticamente sì. Che impressione ne hai ricavate di questa squadra? Io ho visto a Caserta che praticamente era una partita vinta del Catanzaro, poi invece ha vinto a Casertana. Lo stesso 0-4 con la Juve Stabia, qua un risultato piuttosto bugiardo. Il percorso del Catanzaro è stato condizionato da molti episodi, secondo me. Che in questo momento sono stati negativi, più negativi che positivi. Però con la mole di gioco, propositiva, che comunque stanno esprimendo, insomma non potrà sempre andare male. Quindi sono molto fiducioso. Con i piedi come ti trovi ultimamente? Come? Con i piedi, perché noi non abbiamo avuto molta fortuna con i portieri ultimamente. Tu sai benissimo che adesso si gioca molto con i piedi. Sì, sì, certo. Insomma, non voglio giudicarmi da solo. Ecco, penso che se il mister ha dato comunque il suo assenso al mio ingaggio, abbia fiducia anche magari nelle mie capacità con i piedi. Poi spero di ricambiare questa fiducia. Senti, due domande. La prima, il Catanzaro viene da un periodo un po' particolare, una mancanza di risultati o comunque di vittorie. Al tuo arrivo come l'hai trovato il gruppo dal punto di vista mentale? Sinceramente non ho notato scoramento. Ho visto il gruppo molto sereno. Comunque sereno anche perché la prestazione c'è stata anche nell'ultima partita. Quindi, insomma, ho detto che appena girano bene gli episodi, questo gruppo potrà fare grandi cose. I ragazzi sono molto sereni. È un bel gruppo. Un'altra domanda. Ovviamente tu arrivi a Catanzaro dopo l'esperienza Lumezzane, dove avevi un compagno di squadra che Catanzaro la conosce bene, no? Manuel Sarao. Vi siete sentiti prima del tuo arrivo? Gli hai chiesto qualcosa sulla piazza? Sì, anche Giovinco a Via Reggio. Ho avuto Mancosu. Ho avuto diversi compagni che hanno giocato a Catanzaro. Mi hanno parlato benissimo. Manuel sì, l'avevo sentito. Insomma, ho cercato anche di darmi una mano magari per trovare la casa. Comunque, niente. Solo recensioni molto, molto positive sulla piazza, la città. Hai giocato contro il Catanzaro. Che ricordo hai della curva Massimo Capraro? Mi ricordo che praticamente la mia prima partita nei professionisti in trasferta la feci a Catanzaro con il Via Reggio. Lo stadio era bello pieno per Demo. Però, insomma, fu emozionante anche perché noi a Via Reggio, ecco, non è che avessimo questo grande tifo. Insomma, a me trovarmi poi a giocare a Catanzaro, insomma, avevo 19 anni, fu emozionante. Mi ricordo con grande, insomma, questa grande passione del tifo in generale, non solo della curva. E poi, quando sono tornato, insomma, ho sempre visto questo grande attaccamento, questa grande passione che ci mette lo stadio. E poi ora magari capirò anche proprio la città e la gente di Catanzaro. Comunque, per ora, quello che posso aver visto dallo stadio è un grandissimo attaccamento e la gente è molto, molto passionale. Grazie. 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 Grazie.